Si tratterebbe... si tratterebbe... di andare in prigione. In prigione? Tre mesi. Tre mesi soltanto. Al posto studio. Ingegnere, avete ancora pochi minuti per riflettere. Questi sono le cintominaliere. Decidete. È in casa Paolo Vareghi? Sì, signore. Se ne è andato. Poverazzo. Quasi quasi sento rimorso. Ma perché? Quello ha fatto un ottimo affare. Più di 3.000 lire al mese, mantenuto, alloggiato a spese dello Stato. Cosa poteva desiderare di più? Ma di quello non si sarà preso le 5.000 lire e poi appena fare di qui dice che... No, no, non c'è pericolo. Quello va in galera. È un uomo onesto. Oh, piuttosto, adesso bisogna pensare a voi, non c'è tempo da perdere. Anche voi dovete sparire, cessare di... Sentite, Avvocato, parlate al Direttore. Cercate... sì, insomma, facciamo in modo che questo poverazzo... Vedete voi, se è possibile di farvi avere qualche cosa. I miei rispetti, signor Parone. Ma cosa fate voi? Sono venuto a servirmi. Vostri gusti? Io non conosco i vostri gusti, mi sono attenuto a quelli del mio padrone. Ecco qua. Ritotto a ragazzini, pollo a raviavola, melangione di pitello con tartù, formaggio frutta e dolce. Polenta, sempre polenta. Chi non si fa che mangiare polenta? La polenta è salute, giovanotto. Cibo sano, sostanzioso, integrale. Hai mai sentito nominare un certo ingegnere Pietro Colas? Pietro Colas? Sì, un ingegnere minerario che ha scritto un libro interessantissimo. Il milione sotto terra. No, non li badare, Paolo. È una mania dello zio. Ma che mania, lasciami dire. È un uomo in gamba, Pietro Colas. Conosce le viscere della terra come fossero le sue. Pensate di ironia. La beffe, il dispetto del destino. Per tanti anni ho aspettato la fortuna. Adesso arriva. C'è della gente che mi vuole, c'è della gente che mi cerca. Io niente, io non ci sono, non ci posso essere perché sono qui a farla parte di un altro. Ma dov'è? Dov'è quell'anima dannata del vostro padrone? Ve l'ho detto, è in campagna. E che fa? Niente, aspetta. Anzi, guardate, ho scritto una lettera perché non si muova. Ho inventato una scusa perché si trattenga qualche giorno di più. È possibile che un povero di oro che fa dentro da tre mesi debba fare ancora 15 giorni per cattiva condotta? 15 giorni? Sì, sono lì. Ma per cattiva condotta si può raddoppiare e triplicare la pena. Ma questi sono stati barbari, inumani. Oh no, mio caro, la prigione ha una funzione educativa. Più ci si sta, è meglio è. E ditemi ancora, non ho mica qualche relazione, qualche storia di donne? Chi? Lui. Perché ritra, signorina? Giorate. Lo giuro. Questo è mio nipote Paolo Varegli, l'ingegner Pietro Kovac. Kovac? Kovac. Sono molto lieto di conoscervi. A chi? Ma che mai e poi mai Paolo sposerà mia figlia. Speri solo a fatto che sono cugini? Anche questa è una ragione. I matrimoni tra cugini danno sempre dei pessimi risultati. Ne abbiamo una prova nella nostra famiglia. Basta guardare tuo marito. Abbiamo esplorato tutta la zona, sai che si sente l'odore del petrolio? Senti, non mi seccare con questo maledetto petrolio, eh. Una fare semplice, rapido, lineare. Noi compriamo questi terreni per pochi soldi. Diciamo che c'è il petrolio e li rivendiamo a quel bravo uomo di mio zio per somme favolose. E poi? E poi mentre gli operai cominciano a scavare, noi tagliamo la corda a chi si è visto subito. Signor Barone, siete grande. Grazie, Vittorio. Mi far di tornare ai bei tempi passati, pieni di emozioni e di avventure. Questa è la vita che piace a me. Sa più se che seccatura vivere fra tutta questa gente onesta. Vieni fuori come una fontana. Aveva ragione, non si è sbagliato. E ci sono milioni, milioni. Oddio. E noi che l'abbiamo preso per un imbroglione, oh poveretto. Bisogna telefonare subito e ritirare la denuncia. Chi è andato in prigione, papà? Lui, l'ingegner Kovac. Credevamo fosse un imbroglione. L'ingegner Kovac? Ma sempre in prigione deve stare questo disgraziato? C'è allora il truffatore Pietro Kovac. No, Paolo Vareghi. Quello che è stato dentro l'altra volta? No, quello è l'ingegner Kovac. Allora Paolo Vareghi, innocente? Ma no, è stato lui che ha fatto l'imbroglio. Allora quello che abbiamo preso dentro è Paolo Vareghi? No, quello è l'ingegner Pietro Kovac. È colpevole? No, l'innocente. Un momento, un momento, la chiarezza, la chiarezza. Io vengo dalla gavetta, ma qui c'è da impazzire. Ma direttore, sei tanto semplice. Ma era tanto semplice per voi, signorina, scusate, ma io non ci capisco un accidente.